Vai, chi parte? Bruno? Già, sei in un momento di grazia, me lo stai vivendo questo momento. Sono molto contento, sono felicissimo di essere qua, sono contento che il mister mi dà sempre l'opportunità di entrare in campo e io sono qui solo per imparare, scolto i più grandi dal mister. Ha detto che vuole vedere di tenerti con noi. Lo spero tanto, sarebbe un sogno per me. Com'è allenarsi con questi ragazzi, con questi campioni? È un'emozione stupenda, allenarsi con Ben Ali, by base, hanno una qualità infinita, è bellissimo imparare da loro. Un'altra cosa un po' più tecnica, abbiamo visto la seconda punta, la mezzata, anche un po' da trequartista. Che ruolo ti sei dedicato adesso? Il mio ruolo originale è il trequartista, però quello che mi chiede il mister io faccio. Sempre piedi per te, sono qua solo per imparare e per migliorarmi.